Il mio insegnamento è salire. Il mio insegnamento ha un lungo curriculum, infatti Greco è entrato a far parte dell'amministrazione civile dell'interno nel 1989 e ha prestato la sua attività nelle prefetture di Asti, Cosenza, Milano, Vibo, Valencia, Roma, Como e Pisa, oltre che al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione presso il Viminale. Ieri il giorno del suo insediamento, quali sono stati intanto i primi appuntamenti? Allora, ieri ho incontrato il sindaco, il presidente della provincia e il presidente facente funzioni del tribunale. Giornate di incontri e di conoscenze, ha parlato però anche delle priorità, degli obiettivi tra questi e la sicurezza? Sì, sono giornate importanti di incontri e anche chiaramente di dialoghi sulle varie problematiche, sebbene molto contenute devo dire al momento della città, continueremo questi incontri per tutta la settimana. Domani andiamo ad Urbino e con molto piacere conoscerò il sindaco di Urbino perché vorrei che le due città avessero il medesimo rilievo, quindi proporrò, ne ho già parlato ieri con i vertici delle forze dell'ordine, proporrò anche dei comitati che si possano tenere anche ad Urbino. L'intenzione e l'obiettivo sarà quello di assicurare al massimo, proprio il visticcio di parole, perdonatemelo, la sicurezza percepita dai cittadini. Continueremo a mantenere alta l'attenzione, ha proseguito il prefetto, poi intervenuto su alcuni episodi riferibili alla criminalità organizzata avvenuti negli ultimi anni nel nostro territorio. Sono assolutamente fenomeni isolati, non mi sentirai al momento con le informazioni e le notizie che ho ad oggi di poter dire che c'è un problema mafia in questa provincia, anche perché io ho svolto parte della mia carriera in territori molto molto delicati, quale Vibo Valencia, e quindi parliamo di cose molto diverse. Invece sui migranti soccorsi dalle ONG a largo delle coste libiche e in arrivo ad Ancona, Greco ha assicurato il supporto della prefettura in caso di necessità. Qual è la sua opinione in merito a questo fenomeno? Allora guardi, io ho sempre pensato, lo abbiamo sempre fatto con i prefetti nelle province in cui ho lavorato, come vicario, come capo di gabinetto, che è stato quello di gestire il fenomeno e non di subirlo. Quindi cercheremo di gestirlo, di gestirlo in modo che ci sia anche quella integrazione di cui molte volte si parla, ma che raramente si riesce ad ottenere. Grazie a tutti.